La dottoressa Simona Vignali, naturopata e nutrizionista, fondatrice della Sima, scuola integrata moderna di Ayurveda e direttrice dello spazio Solo Salute di Milano, nonché autrice della collana I Manuali Moderni di Salute Naturale. L'intervento è Ayurveda dalla scienza alla conoscenza. Grazie, ringrazio tanto l'organizzazione per avermi invitata qui. Voglio dire innanzitutto che per me oggi è una grande gioia poter assistere finalmente, dopo tanti anni di professione, a questo abbraccio ho visto anche degli abbracci proprio fisici che mi hanno veramente confortata, tra l'approccio olistico e la scienza. Io oggi farò due interventi, il primo del quale riguarda la Ayurveda e vorrei anche qui proporre un abbraccio tra la visione orientale e la visione occidentale. Vi farò fare un viaggio, semplicemente un viaggio verso oriente. Vi va? Avete voglia? Però per fare questo credo che sia necessario resettare i microtubolini, giusto? Ecco, perché mi piacerebbe che lasciaste un attimo sospese tutte le vostre informazioni, anche quelle tecniche scientifiche oppure olistiche di approccio occidentale che avete fino a qui accumulato, assemblato, e lasciaste spazio per la trascrizione di nuove informazioni, giusto? Ecco, con una visione orientale. Parliamo di Ayurveda. Una citazione, una citazione da un testo molto importante che risale a molti secoli, migliaia di anni fa in realtà, perché l'Ayurveda è una scienza molto antica che proviene dall'India e ci conforta in questo modo. Corpo, mente, anima, questi tre sono come un tripode. Il mondo si regge sul loro insieme. In loro prende dimora ogni cosa. Questo insieme esiste per il Purusha, l'essere conscio. E questo è il soggetto dell'Ayurveda. È per questo che gli insegnamenti dell'Ayurveda sono stati rivelati. Mi sembrava carino iniziare questo intervento con questa citazione. E poi raccontarvi un po' di me, di chi sono, della mia storia personale. Ieri sera ero a cena con alcuni nuovi amici e è stato molto bello perché ho sentito appunto esprimere il desiderio di conoscerci di più, anche non solo come terapeuti o tecnici, ma come persone per poter veramente condividere quello che è stato il percorso, che è stato il cammino che ci ha portato fino a qui. E quindi ho pensato di presentarmi parlando del mio destino, dell'esperienza che ho da condividere. Anche perché sono convinta che ognuno di noi qui abbia un destino forse molto simile, molto comune, perché siamo sicuramente persone che hanno saputo vedere in avanti. Quanti di noi hanno iniziato tanti anni fa ad andare controcorrente. Questa è un po' la mia storia, ma credo sia la storia di tutti. Il mio motto era la storia mi darà ragione. Quando, per esempio, cresciuta in una famiglia di medici, ho iniziato a studiare naturopatia, quando dovevo intraprendere una carriera universitaria, invece sono andata in India. Ma vi voglio raccontare questa breve storia con qualche immagine. Questa sono io a 16 anni e in quel periodo era possibile, come anche oggi, studiare all'estero, fare un anno di studio, un anno di scambio culturale all'estero. E mentre tutti andavano in America per imparare l'inglese e per avvicinarsi al mondo occidentale, io ho scelto, prima unica e solitaria, di andare in Giappone. E quindi ho vissuto diversi anni in Giappone, partendo proprio da questo primo anno di liceo che ho vissuto lì. E poi dopo il Giappone la mia grande passione è stata l'India. In India ho vissuto molti anni, ho avuto tantissime esperienze, ho comunque assecondato anche la mia natura un po' così secchiona, se vogliamo, un po' studiosa. Quindi ho studiato Ayurveda, yoga terapia, ho potuto avvicinare e rimanere nell'aura di grandi maestri che mi hanno infuso molta conoscenza da questo punto di vista. Però a quei tempi non si sapeva nemmeno in Italia che cosa fosse la Ayurveda, tantomeno la neuropatia, tant'è che spesso mi chiedevano perché io volessi studiare neuropatia o che cosa fosse la neuropatia. O mi chiedevano perché vuoi diventare neuropatica? Cioè io non sono neuropatica, sono naturopata. E comunque questo percorso poi è proseguito. Io per molti anni ho organizzato congressi, convegni portando dei medici indiani in Italia. Qualcuno di voi era anche presente a quei tempi. Perché l'obiettivo era quello proprio di iniziare a divulgare questa conoscenza, a dare vita a questo abbraccio. Questi sono alcuni dei medici. Questo per esempio è il professor Ranade che ha scritto circa 76 libri ad oggi sulla Ayurveda, quindi figure anche molto importanti che amavano la divulgazione più di ogni altra cosa. Io poi ho fondato la scuola, sì, ma questa è un'immagine, mi è piaciuto metterla, è un po' folcloristica perché tanti anni fa, questa immagine è circa di 12 anni fa, quella con Insari sono io un po' più giovane, pensate, per far capire che le discipline olistiche non erano la rinuncia alla vita, ai piaceri della vita, come io mi sentivo spesso dire, ma erano veramente aggiungere qualcosa di positivo e di bello alla vita, con alcune allieve della mia scuola ci eravamo inventate addirittura un gruppo che si chiamava Shiva Angels, con cui abbiamo creato delle coreografie per far vedere che il massaggio ayurvedico, l'Ayurveda, erano qualcosa di piacevole, di bello, di integrabile nella vita e nella realtà di tutti i giorni. Poi dopo ho scritto, questo è uno dei miei primi manuali, il manuale moderno di Ayurveda, è molto semplice, è un testo molto semplice, così come sono io, io amo semplificare, infatti quando mi chiedono qual è la tua caratteristica io mi definisco una semplificatrice e anche qui oggi vi farò fare così un breve viaggio nella Ayurveda parlando dei suoi principi fondamentali, perché mi piacerebbe che ognuno di voi quest'oggi, dopo questo intervento, iniziasse appunto con i suoi microtubulini ad avere delle informazioni in più per aprire una finestra su una visione, perché anche l'Oriente ci può dare una chiave di lettura che può essere facilmente integrabile senza sconvolgere la nostra esistenza, ma portando un valore aggiunto. A questa sono io, sono tornata in India e dall'anno scorso e quest'anno organizzo anche dei viaggi in un resort ayurvedico, proprio per chi vuole apprendere e sperimentare tutto il benessere che l'India e l'Ayurveda possono dare. Ayurveda. Ayurveda è una parola sanscrita, proviene da questa antica lingua e significa scienza della vita. Ayur, scienza, in realtà preferisco tradurlo come conoscenza, perché vedrete come poi tutte queste informazioni si riversano in un approccio estremamente pratico. Quindi ayur, scienza, veda, conoscenza, scusate, ayur vuol dire vita. Ripartiamo. Ayur vuol dire vita e in realtà, come avete sentito nella citazione di prima, la vita, secondo l'Ayurveda, è già questo complesso molto unitario. Io penso che dal punto di vista scientifico della conoscenza fossero veramente avanti, migliaia di anni fa, perché attraverso appunto veda, vid, quindi la conoscenza, riuscivano a percepire, senza microscopi, senza tecnologia evoluta e sofisticata, comunque quelli che fossero veramente i paradigmi fondamentali dell'esistenza. E' interessante, la scienza dell'Ayurveda attinge direttamente a quella fonte che è appunto la visione, la visione che si acquisisce nel silenzio, nel silenzio della contemplazione, della meditazione, della riflessione, che erano gli strumenti più efficaci che avevano a disposizione a quel tempo e che hanno comunque costruito un sistema che ad oggi è ancora valido, perché ci darà, l'Ayurveda ci dà continuamente, ci sta dando da tanti anni, dei paradigmi di lettura, molto semplici ma molto concreti. L'essenza dell'Ayurveda è semplice, conosci te stesso, niente di nuovo, assolutamente niente di nuovo per noi, nemmeno noi occidentali, ma l'Ayurveda ci aiuterà a capire, a conoscere noi stessi da un punto di vista molto pragmatico. E sulla base di questa conoscenza, l'Ayurveda ci aiuta a capire un aspetto fondamentale dell'esistenza, cioè come scegliere ciò che ci fa bene. Credo che sia molto semplice, siete d'accordo? Ma chi ce lo insegna? A noi da bambini ce l'hanno insegnato nelle nostre famiglie, la nostra mamma, la tua mamma, la mia no, non me l'ha insegnato, neanche a scuola, non ce lo insegnano purtroppo. E questa è una conoscenza fondamentale, è la base fondamentale. Oltre a scegliere ciò che ci fa bene, dovremmo capire come evitare ciò che ci fa male. Credo che noi, nella nostra cultura, nella nostra civiltà, siamo dei maestri nell'arte di farci del male, siete d'accordo? Ora qui per fortuna siamo un po' tutti orientati verso uno stile di vita sano, naturale, però se ci guardiamo intorno, basta leggere qualunque rivista che non sia appunto salute naturale, o basta guardare qualunque programma televisivo per sentirsi veramente accapolare la pelle, perché tutto quello che viene proposto oggi è anti-salute. Quindi, conoscendo questi paradigmi, la Yurveda ci aiuta a rimanere in salute per realizzare l'obiettivo fondamentale dell'esistenza, che non è appunto stare bene per tornare a vivere lo stile di vita che ci ha fatto ammalare, ma è stare, come spiegava appunto il dottor Alivia, è vivere la vita, capire, integrare e crescere in uno stato di salute, perché così non abbiamo ostacoli, preoccupazioni e deviazioni per poter realizzare il vero senso dell'esistenza, che è uno stato integrato, uno stato, qui si chiama crescita spirituale, poi ognuno chiaramente attribuisce pericolosamente a volte i suoi significati a questo termine, però ecco, la Yurveda ci porta a vivere uno stato consapevole, dove ci conosciamo e possiamo scegliere. Quindi ci porta dalla scienza alla conoscenza, la Yurveda ha effettuato una trasposizione universale e comprensibile della sua visione scientifica, perché è veramente una scienza universale, si addice a qualunque tipo di cultura, a qualunque tipo di razza, di civiltà, non è una conoscenza esclusiva dell'India ed è una trasposizione universale. Ricordo quando lavoravo con questi medici indiani, ayurvedici, ce n'erano alcuni che mi mettevano in forte imbarazzo, perché di fronte ad una platea di medici, di farmacisti, che erano gli unici a quei tempi interessati alla Yurveda, esordivano la loro conferenza dicendo Ayurveda is a holy science, che io dovevo tradurre, dicevo no, non possiamo iniziare così, la Yurveda è una scienza sacra, a me veniva il terrore pensando adesso queste persone si alzano e se ne vanno, ma c'è veramente una riverenza importantissima nei confronti della Yurveda, proprio perché si dice che la Yurveda sia una conoscenza rivelata in quanto ciò che è stato trascritto migliaia di anni fa e poi trascritto molti secoli fa è ancora parte del bagaglio culturale formativo della classe medica in India che studia Ayurveda, cioè si studia ancora sugli antichi testi e questo è sbalorditivo, è come se noi studiassimo oggi sui testi biblici o sui testi medievali è assolutamente impensabile, la nostra scienza si è evoluta, la nostra medicina si è evoluta, spesso si è evoluta contraddicendosi, questa è un po' una caratteristica dell'evoluzione occidentale, diversamente la conoscenza della Yurveda e la filosofia, la sua scienza, la sua visione è rimasta inalterata nel tempo, quindi ciò che è stato detto è stato scritto molti secoli fa e ancora oggi ciò che viene studiato e che anche noi come realizzerete tra poco possiamo effettivamente accogliere come qualcosa di interessante che forse ha una certa verità che può darci delle risposte. Uno dei principi fondamentali della Yurveda è che il macrocosmo in qualche modo riflette il microcosmo e ce lo spiega in maniera molto semplice, io sarò molto materiale, perché ci parla proprio dei suoi elementi costitutivi di base, i suoi mattoncini. Di che cosa è composto il macrocosmo? La Yurveda ce lo spiega in termini di elementi. Alla fine se andiamo a scomporre tutta la materia che ci circonda troviamo cinque elementi di base che sono l'etere o lo spazio, l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra. Quindi dall'elemento più sottile all'elemento più grossolano, più materiale. L'aspetto interessante è che già secondo la Yurveda l'etere, cioè lo spazio, che possiamo anche magari interpretare come il vuoto, era in realtà un elemento pieno, un elemento positivo, anzi, è l'elemento più importante, è il più fondamentale, perché senza lo spazio non può esistere nulla. E comunque parlando di etere è anche interessante oggi verificare come la nostra civiltà si basi sulla comunicazione via etere. Ok? Quindi questi cinque mattoncini rappresentano tutto ciò che ci circonda. Abbiamo lo spazio, abbiamo l'aria, quindi il vento, gli spostamenti delle nuvole, delle masse, abbiamo il fuoco, nel sole, nel calore della terra, abbiamo l'acqua tutto intorno a noi, oceani, pioggia, abbiamo la terra, che qui viene considerata la parte materiale, cioè non solo il suolo che calpestiamo, ma anche gli alberi, la roccia, tutto ciò che è duro, che è concreto. Ebbene, tutto questo esiste nello stesso modo anche nel microcosmo, perché anche l'uomo è un sistema che include i cinque elementi, è composto dagli stessi cinque elementi. Abbiamo lo spazio nel nostro corpo? Sicuramente sì, lo abbiamo all'interno delle cellule, lo abbiamo nelle cavità, nelle viscere. Abbiamo aria nel nostro corpo? Sicuramente sì, ce l'abbiamo nei polmoni, ma anche nelle viscere, nell'intestino. Abbiamo fuoco? Beh, sì, per fortuna il nostro corpo ha calore, emana calore, il metabolismo brucia, trasforma la vita e il metabolismo. Abbiamo acqua? Sì, molta acqua, tant'è che noi in realtà non ci pensiamo mai, ma siamo degli esseri liquidi. Quando diciamo che siamo composti dal 60 all'80% di acqua, significa che siamo degli esseri liquidi. Semplicemente la parte materiale è quella più esterna con cui noi entriamo in contatto più facilmente, però l'acqua è una parte fondamentale del nostro organismo. E abbiamo terra dentro di noi? Sì, nella forma delle ossa, dei muscoli, del grasso, la parte appunto più concreta. Quindi vedete che c'è una semplice e comprensibile affinità tra il mondo esterno e il mondo interno. Ma cosa succede? Che al nostro interno questi elementi si uniscono, si alleano tra di loro e creano delle forze intelligenti che sono i famosi dosha che danno vita alla costituzione ayurvedica. Per cui l'etere si allea con l'aria, sono molto simili e nel corpo umano partecipando della coscienza e dell'intelligenza umana creano una forza che si chiama vata. Il fuoco rimane da solo perché è molto difficile che si allei con altri elementi, prende il nome di pitta nell'organismo e l'acqua si allea con la terra e prende il nome di kappa. Quindi queste sono tre forze che sono presenti nel nostro corpo e che danno forma al corpo danno caratteristiche al comportamento al carattere e determinano la predisposizione a quelle che sono le malattie e i disturbi. Per cui è molto importante dal punto di vista ayurvedico sapere che noi abbiamo queste tre forze e sapere che ognuno di noi per quello capire chi siamo noi ognuno di noi possiede tutti e tre questi elementi ma in proporzioni diverse. Quindi ci sono persone più etere più aere con la testa per aria lo diciamo anche noi ci sono persone più focose e ci sono persone più terra terra o più liquide. Questo riflette delle caratteristiche psicofisiche per esempio la persona tipo etere aria il tipo vata sicuramente esprime manifesta delle caratteristiche tipiche dell'aria per cui sarà sicuramente una persona molto leggera molto mobile che manifesta queste attitudine al cambiamento allo spostamento è una persona di solito esile con ossatura sporgente tende ad avere proprio problemi di ossa perché ha molta componente aria e poca componente terra è una persona con un carattere piuttosto volubile cambia idea spesso si ritrova ad essere sempre molto accelerata un po' come fa come fa come fa l'aria e quindi capire le caratteristiche del proprio vata della persona che possiede molto vata è importante perché permette di poter scegliere quelle azioni giuste che vanno a riequilibrare e che vanno a compensare tutti quelli che possono essere gli eccessi tipici di questa costituzione la persona di tipo fuoco si chiama pitta è una persona chiaramente con molto calore interno infatti la persona tipo fuoco tende ad avere sempre caldo mentre la persona vata è molto freddolosa la persona pitta ha molto caldo e avendo un metabolismo molto accelerato molto acceso ha sempre fame è una persona che quando è ora di mangiare deve mangiare non vede niente nessuno diventa nervosa se non mangia perché il suo metabolismo è così accelerato che ha veramente bisogno di bruciare qualcosa e tipicamente dal punto di vista fisico la persona pitta tende ad avere i capelli rossi gli occhi ramati o verdi le lentigini perché la persona pitta manifesta molto il calore attraverso la pelle quindi tende ad avere sempre la pelle o arrossata o macchiata o a manifestare problematiche tipiche alla pelle ha un carattere molto focoso tende ad essere caratterizzata da una fortissima razionalità perché il fuoco va verso l'alto e quindi la persona pitta è una persona molto di testa però poi quando questo diventa troppo quindi eccessivo tende al giudizio tende alla critica è una persona che magari se tu svolgi un lavoro per una persona pitta non vede le 99 cose che hai fatto vede l'unica che non hai fatto e te la fa notare quindi è molto è molto attenta e tende ad essere molto molto forte da questo punto di vista ha un carattere focoso quindi tende ad essere leader per natura e ama l'approccio razionale all'esistenza questo è importante da sapere anche perché quando ci si approccia a dei pazienti barra clienti dal punto di vista ayurvedico è molto importante sapere come loro si relazioneranno anche alla cura che viene proposta come li si può motivare per poter seguire un percorso di salute perché la persona vata come vi dicevo è molto volubile e quindi non sarà semplice mantenerla attinente mantenerla costante nella sua pratica di salute la persona pitta è una persona molto razionale quindi andrà motivata e molto spesso si muove quando ha un fine un secondo fine e quindi è veramente importante farle capire che ottimizzando la salute potrà avere dei benefici anche dal punto di vista lavorativo anche dal punto di vista economico sarà un investimento poter lavorare sulla sua salute la persona kappa è una persona che manifesta comprende molta acqua e terra nel suo organismo e quindi avrà molta massa fisica sarà una persona massiccia non necessariamente grassa però ha molta materia tende a ingrassare comunque ha le ossa molto grosse ha una struttura molto molto forte un po' robusta molto visibile come caratteristiche fisiche avendo molta massa appunto ha capelli molto fluenti denti molto forti ossa molto resistenti è una persona che non si ammala spesso perché è molto forte però tende all'obesità tende a trattenere trattiene le tossine trattiene i liquidi e quindi è una persona che va molto stimolata da questo punto di vista per l'eliminazione e la tonificazione anche perché essendo molto molto materiale la sua caratteristica è proprio quella di essere un po' pigra un po' ferma e quindi tende tende all'ozio è molto metodica è molto è molto ferma ed è una persona che va aiutata tramite la stimolazione al movimento al drenaggio con la giusta chiaramente con la giusta alimentazione questa è un po' un'idea molto molto veloce chiaramente qui ci sono molti anni di conoscenza la Iurveda è una scienza molto antica molto molto precisa io vi ho voluto dare quest'oggi un'idea molto breve di quelle che sono le caratterizzazioni soprattutto delle persone e secondo la Iurveda l'approccio l'aspetto più importante per la ricerca della salute è il mantenimento dell'equilibrio cosa significa ognuno di noi nasce con una sua costituzione questo è genetico ha come un nome e cognome siamo tutti misti però ne abbiamo una principale una che comunque influenza e una che è presente ma non è abbastanza forte per farsi sentire e ognuno di noi nasce in questo modo e il percorso verso la salute nell'arco della sua esistenza dovrebbe essere quello di mantenere questa costituzione perché non ce n'è una migliore o una peggiore se una persona nasce con una prevalenza vata e un secondo dosha pitta dovrebbe cercare nella sua vita di rimanere all'interno di questo di questo suo paradigma vata pitta se siccome queste forze sono comunque delle forze mobili perché risentono anche dell'influenza chiaramente dell'ambiente e degli elementi esterni se si squilibra cioè se si aumenta o riduce un dosha rispetto a quello di nascita si entra in uno stato di squilibrio o di patologia per cui ognuno di noi ha le sue caratteristiche per esempio una persona pitta a molto fuoco finché rimane una persona pitta con molto fuoco con molto calore quella è la sua caratteristica il suo dosha ma quando questo diventa eccessivo e si trasforma per esempio in un fuoco che brucia come una gastrite o un fuoco che spinge verso l'esterno attraverso la pelle tutti i residui la combustione facendo manifestare per esempio una psoriasi o un problema di pelle allora lì siamo in uno stato di squilibrio quindi un conto sono le caratteristiche dei dosha un conto è lo stato di squilibrio e la yurveda spiega che ogni stato di squilibrio tutti possono nascere da tre cause quindi ci sono tre cause che possono essere quelle che generano le diverse malattie la prima causa la più importante è l'errore dell'intelletto la seconda è l'uso improprio dei sensi e la terza è il rapporto disarmonico con il tempo credo che siano comunque concetti di una profondità e di una attualità spaventosa che tra l'altro si ricollegano veramente a tutto quello che è stato detto fino adesso vediamo come la yurveda spiega queste tre cause la prima è l'errore dell'intelletto l'intelletto si può comportare questo nell'insegnamento orientale viene sempre ripetuto la mente è un po' come una serratura se giriamo la chiave da una parte andiamo verso la salute il benessere l'equilibrio se la giriamo dall'altra andiamo verso il disagio e lo scompenso e la yurveda ci spiega che questo può avvenire in due modi il primo è attraverso l'atto della discriminazione non si vede la discriminazione è uno degli atti più importanti della mente cioè discriminare significa scegliere separare ciò che è sano da ciò che non è sano quindi il primo errore dell'intelletto è quando non esercitiamo una giusta discriminazione e quindi scegliamo delle abitudini non sane in realtà tutti noi sappiamo benissimo che cosa ci fa bene e che cosa ci fa male sappiamo per esperienza quali sono i cibi sì e i cibi no quali sono le azioni le abitudini che ci fanno sentire veramente bene a lungo termine o quelli che ci fanno stare bene ci gratificano nel momento e poi dopo ci fanno pagare le conseguenze quindi la Iurveda ci spiega se noi ci orientiamo a scegliere a discriminare le giuste azioni usiamo la mente nel modo corretto e quindi costruiamo la nostra salute se diversamente noi usiamo la mente nel modo sbagliato chiaramente andiamo con incontro al disagio e alla malattia e qui vedete otto immagini sono la rappresentazione delle otto azioni fondamentali per la salute secondo la Iurveda che sono la prima l'oleazione del corpo quindi tramite l'automassaggio o il massaggio quindi è molto importante secondo la Iurveda fornire al corpo questo elemento tramite la pelle e poi abbiamo l'uso del calore la sauna o il bagno turco abbiamo l'utilizzo dei rimedi nutrizionali erboristici la Iurveda ha una tradizione erboristica millenaria immaginate l'India è un continente che va dai meno 30 gradi dell'Himalaya ai più 30 gradi dei tropici del sud e quindi immaginate quale vastità di flora di minerali di alimenti con cui si possono poi sviluppare dei rimedi naturali poi abbiamo l'uso del questo è il ghee il ghee è il burro chiarificato è un alimento tipicamente ayurvedico e se vi interessa sapere come fare il ghee c'è un mio breve video su youtube che spiega esattamente come prepararlo ed è un elemento grasso che permette appunto di ottenere questa assimilazione delle materie grasse all'interno che secondo la Iurveda sono veramente un aspetto importantissimo per la salute poi abbiamo l'alimentazione l'esercizio fisico l'uso della mente delle emozioni in modo positivo e l'ultima immagine vuole rappresentare il senso di gratitudine e di gioia e quindi di spiritualità questi sono gli otto aspetti che bisognerebbe assolutamente coltivare per avere una salute sana l'altro aspetto legato alla mente dopo la discriminazione è l'identificazione mi ha fatto molto piacere sentire finalmente delle parole di stampo scientifico fisico quantistico che veramente ci fanno capire che non è nemmeno più il caso di distinguere tra il corpo e la mente che in realtà sono un'unica cosa e questo ci porta in realtà ad avvicinarci con i nostri parametri ad una corretta identificazione con ciò che noi siamo siamo esseri complessi abbiamo infinite potenzialità non siamo solo un corpo materiale abbiamo anche una parte energetica vuoi spirituale e secondo la Iurveda se noi non viviamo appieno e non abbiamo consapevolezza di tutte queste dimensioni e viviamo in una maniera limitata andiamo inevitabilmente verso la malattia abbiamo una natura spirituale energetica abbiamo tante dimensioni dentro di noi è importante viverle è importante prenderle in considerazione prima di tutto come persone perché come dicevamo prima si diceva prima bisogna essere degli esempi dei portatori sani di salute e poi è importante trasmettere questo tipo di approccio nei confronti delle persone che si seguono io non penso lo si faccia parlando delle vite passate o di strane o di strani visioni ma in maniera pragmatica anche facendogli sperimentare delle dimensioni partendo proprio dal corpo dalla conoscenza di sé di tutti i propri aspetti per quanto riguarda il secondo errore la seconda causa della malattia siamo all'uso in proprio dei sensi anche questo trovo che sia un'intuizione una conoscenza molto profonda e molto attuale i sensi sono il ponte tra l'interno e l'esterno sono cinque quelli fisici la vista l'udito il tatto il gusto l'olfatto e secondo la yurveda possono essere usati in tre modi in modo eccessivo in modo insufficiente o in modo improprio tutto questo porta alla malattia e facciamo degli esempi molto molto semplici la vista l'eccessiva esposizione alla luce oggi abbiamo tante luci artificiali abbiamo troppi colori abbiamo veramente spesso un eccesso di esposizione alla luce alle immagini per esempio tramite la televisione è riscontrato e risaputo che questo ci disturba ma allo stesso tempo anche l'uso insufficiente sappiamo che quando viene molto presto buio soprattutto nei paesi nordici questo porta inevitabilmente alla depressione a uno stato di tristezza di malinconia immaginiamo di crescere o di vivere in un mondo completamente grigio nero senza colore tutto questo non può sicuramente favorire la salute invece l'uso improprio della vista è per esempio esporsi a immagini violente anche qui la televisione sicuramente non aiuta è molto poco ayurvedica da questo punto di vista e così possiamo riflettere sull'uso di tutti i sensi per concludere il terzo la terza causa della malattia è il rapporto disarmonico con il tempo anche questo secondo me è un concetto di una profondità spaventosa un po' perché ci stanno rubando il tempo nella nostra civiltà e anche un po' perché si stanno alterando le stagioni e quindi inevitabilmente il nostro rapporto con il tempo non riesce più ad essere equilibrato dovremmo rimanere sempre in armonia con il tempo le stagioni attraverso l'alimentazione attraverso gli accorgimenti nello stile di vita questo ci può aiutare a mantenere e a garantire una vita una vita più sana una vita più equilibrata ultima cosa la ayurveda considera il massaggio ayurvedico visto che si parlerà molto di tecniche manuali lo considera un vero strumento di riequilibrio io a questo proposito ho studiato elaborato a lungo in India e qui un metodo che poi ho chiamato Ayurvedic Touch e tra l'altro questo è un metodo l'unico metodo ayurvedico che è stato validato scientificamente magari nel prossimo convegno potremo avere qui anche ospite il medico che ha fatto queste sperimentazioni cliniche sugli effetti dell'Ayurvedic Touch ed effettivamente l'approccio proprio manuale di cui so che oggi si parlerà anche molto è importante è importante anche secondo l'Ayurveda perché è un reale strumento di riequilibrio che riporta i tre dosha quindi questi elementi in uno stato di pacificazione mi piace chiudere con questo termine quindi vivere la scienza nella conoscenza quotidiana significa leggere la vita anche in chiave ayurvedica e io spero di avervi dato una piccola veramente breve apparentemente superficiale ma comunque spero simpatica visione di quello che è l'Ayurveda e di come ci può guidare in alcune scelte nella nostra vita bene grazie 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 mille alla dottoressa Vignali ci sono domande per lei? dottoressa le vorrei chiedere se in Ayurveda anche altri organi tessuti e sistemi che entrano in relazione con l'ambiente che ci circonda vengono vissuti come organi di senso i visceri le fasce la pelle e poi se può dedicare ancora un po' di tempo a spiegarci l'uso improprio degli organi di senso improprio? degli organi di senso ah sì sì certo volentieri sì in realtà secondo l'Ayurveda gli organi di senso sono cinque cinque sono organi di recezione e cinque sono organi di azione quindi si ha veramente una visione molto complessa è chiaro che poi l'utilizzo di questi organi è determinante e credo che oggi sia una delle problematiche più diffuse per esempio abbiamo parlato brevemente della vista parliamo dell'udito l'uso proprio dell'udito tutti noi siamo sottoposti all'inquinamento acustico quindi i rumori troppo forti disturbano e squilibrano i sensi in generale e questo poi porta uno squilibrio alla salute però anche essere o crescere o vivere in assenza di rumore in assenza soprattutto di parola quindi di relazione di scambio può essere dannoso così come ascoltare l'Ayurveda spiega quindi l'udito di cose improprie parole violente o parole forti o parole che imprimono poi nella nostra mente dei concetti negativi può sicuramente danneggiare la salute qui stiamo parlando di un uso continuativo per cui effettivamente immaginiamo di essere esposti per lungo tempo all'inquinamento acustico o ad una esperienza uditiva negativa come ci può influenzare poi per esempio il gusto anche qui la stessa cosa l'eccesso di sapori soprattutto noi in occidente abbiamo privilegiato due sapori fondamentali che sono il dolce e il salato mentre l'Ayurveda spiega che ci sono sei sapori in natura e che ogni pasto dovrebbe includere tutti i sapori per cui l'eccesso di sapore dolce o di sapore salato ci squilibra l'America è uno specchio molto veritiero di questo concetto perché oramai i bambini soffrono di ipertensione per l'eccesso di sale e di obesità per l'eccesso di zucchero addirittura diabete l'uso invece troppo scarso del sapore allo stesso modo squilibra cioè il cibo deve comunque collegarsi agli aspetti emozionali e quindi ci deve dare piacere non si possono mangiare cibi senza sapore squilibra allo stesso modo e l'uso improprio è quando si fanno delle combinazioni errate tra gli alimenti anche qui c'è una logica c'è un senso e soprattutto c'è un ordine per quanto riguarda l'olfatto lo stesso concetto è valido essere esposti a inquinamento chimico per esempio chi lavora ed è esposto a fumi tipo formaldeide o gas venefici sicuramente ha dei danni allo stesso modo vivere in un mondo senza profumi e non percepire nessun odore è altrettanto dannoso e sentire dei profumi degli odori che sono velenosi ci può squilibrare quindi questo tipo di lettura si applica tranquillamente a tutti i cinque sensi e lo possiamo osservare nella nostra vita quotidiana cioè iniziamo ad osservarci anche da questo punto di vista perché credo che possa essere semplice ma interessante e profondo allo stesso momento buongiorno volevo sapere è possibile nascere con un dosha e poi subire trattamenti farmacologici medici errati e condizionamenti emotivi molto profondi anche traumatici e trovarsi con un altro dosha che causa malattia quindi trovarsi con uno squilibrio assoluto sentirsi sentire se stessi appartenenti a una certa un certo dosha però il tuo corpo appartiene a un altro è molto frequente questo accade perché quando noi nasciamo diciamo che la condizione per cui una persona nasce vata pitta o kappa con un determinato dosha è genetica quindi dipende proprio dall'ovocita materno dallo spermatozoo paterno quanto vata pitta kappa avessero ognuno e come la madre abbia poi condotto la gravidanza questo determina il dosha alla nascita poi però subentrano dal primo giorno dei fattori ambientali alimentari chimici comportamentali che cambiano la proporzione di questi elementi perché essendo elementi naturali sono assolutamente in relazione con con tutto ciò che ci circonda e tutto ciò che noi assumiamo e assimiliamo quindi molto spesso delle persone nate con una costituzione la costituzione di nascita si chiama prakriti in sanscrito si ritrovano poi in uno stato di vikriti cioè di costituzione alterata quindi il terapeuta ayurvedico deve prendere in considerazione in questo caso non la costituzione di nascita perché quello è l'obiettivo a cui si deve tornare ma la costituzione alterata e lavorare per ridurre lo squilibrio che automaticamente poi riporta verso uno stato di equilibrio originario l'obiettivo è quello io sono Marisa Vocca da Roma mi occupo di Qigong medicina cinese quindi c'è moltissimo in comune un confine tra i due tra i due paesi quindi è molto labile anche filosoficamente dal punto di vista medico quello che volevo chiedere adesso lei ha detto la costituzione dipende dalla madre e dal padre quindi ovocita spermatozoo nella medicina cinese nell'embriologia interviene un'altra caratteristica che è quella che dà poi l'individualità lo Shen che viene dal cosmo dal cielo chiamiamolo come volevo una definizione dall'altra parte del confine sì allora secondo la Iurveda la costituzione dipende appunto dai fattori genetici dai fattori comportamentali della madre infatti ci sono molte importanti regole da seguire durante la gravidanza ma non solo anche per il concepimento perché ci sono c'è un capitolo intero dedicato proprio alla scienza del concepimento laddove con una serie di azioni rituali si può in qualche modo intervenire sullo stato di equilibrio del nascituro e poi comunque anche secondo la Iurveda ci sono dei fattori karmici imponderabili quindi esiste questo elemento è chiaro che noi andiamo a lavorare sarebbe molto bello poter formare anche le coppie le giovani coppie sull'approccio ayurvedico perché per esempio anche per la gravidanza la Iurveda ci spiega che non è sufficiente iniziare per esempio per una donna a mangiare bene a smettere di fumare a smettere di assumere determinate sostanze dal primo giorno di gravidanza ci dovrebbe essere un periodo di preparazione questa preparazione andrebbe fatta sia per l'uomo che per la donna queste cose io le spiego nel mio libro io le spiego sognando un mondo migliore dove tutti veramente si è più consapevoli e ci si prepara a vivere la vita e a dare anche la vita perché poi chiaramente la salute del bambino dipenderà da tutto quello che è stato fatto prima dai genitori e poi durante la gravidanza e durante la sua vita quindi si ci sono dei fattori molto molto vicini questo è molto bello buongiorno sono Claudio Corbellini adesso parlo un po' come agopuntore ma anche come creativo culturale una delle cose che noi stiamo lavorando a parte il lavoro che sto facendo con Nittamo Montecucco di mettere proprio un ponte tra la iurvedica e il discorso della medicina cinese è proprio quello del vissuto della madre noi una delle cose che abbiamo notato che lo stress della madre è estremamente negativo per il bambino per cui nascono degli individui su cui dopo bisognerà lavorare molto anche perché da un punto di vista ormonale e di neurotrasmettitori hanno avuto un tale bombardamento durante la gravidanza per cui dopo rimane una ridotta capacità di reagire allo stress perché già prima di nascere sono stati sottoposti a questo stress e questo diciamo è in parte superabile perché alcune cose vengono diciamo così dentro io addirittura una delle cose che a livello di medicina cinese ho scritto già dai tempi dei tempi è che praticamente il periodo formativo della Yuan Chi che è l'energia originale va avanti sino ai primi tre anni perché i tre anni c'è una capacità veramente unica e c'è proprio questo atteggiamento che poi porta a facilità di attacchi di panico a una difficoltà a gestire tutte le situazioni emozionali a forte contenuto stressante è proprio tutto un lavoro che stiamo facendo anche a livello di neurotrasmettitori ormoni eccetera indagini psicologiche interessantissimo la Yurveda infatti consiglia di lavorare da prima da molto prima ma anche dal primo giorno di nascita vi lascio con un'ultimissima immagine come fare a riconoscere un bambino appena nato se vata pitta o kappa chiaramente lo esprimiamo con i termini antichi della Yurveda allora se un bambino nasce scuro e rugoso come una scimmia è un bambino vata e quindi già dal primo giorno iniziamo a capire di cosa ha bisogno se nasce caldo e rosso come un tigrotto è un bambino pitta e se nasce liscio e gonfio come una rana è un bambino kappa con questa immagine vi lascio grazie 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 grazie